Con l'espressione filo di Arianna solitamente si intende quel punto o passaggio logico o anche solo fisico che tiene insieme un intero discorso o conduce verso un determinato risultato. Tenere il filo di Arianna significa semplicemente non perdere il filo. Haha, battutona! Con il termine filo di Arianna, oggigiorno, intendiamo quello che è il punto cardine, la guida che non ci fa perdere durante un percorso non solo fisico ma anche logico-mentale, insomma, in senso lato e metaforico. Il riferimento mitologico è palese, fa riferimento alla vita di Teseo, o meglio, quando Teseo andò a sconfiggere il Minotauro e ad Arianna che lo aiutò perché ne era follemente infatuata. Arianna, infatti, vi ricordo, sebbene abbia fatto un video su Teseo, donò a Teseo un gomitolo di filo magico che gli avrebbe permesso di orientarsi sempre, andare in una direzione giusta all'interno del Minotauro, raggiungere il mostro, ucciderlo e uscirne sano e salvo. Quindi possiamo dire che è grazie ad Arianna che Teseo non perse il filo. Eheh, faceva schifo come battuta, eh? Mi devo andare a uccidere, vero? Sì. Ma tornando a noi, tornando seria, alla fine Teseo fuggì dal labirinto, assieme ad Arianna che fuggì con lui sperando che il principino greco la sposasse e potesse vincere, felice e contenta. Peccato che non fu così, ma di questo ne parleremo nel prossimo video. Grazie a tutti.